Ciao, benvenuto nella elenco prodotti. In questo video andremo a dare un'occhiata al 5 migliori sensori di parcheggio. Ho creato questo elenco in base alle mie ricerche e opinioni personali e ho cercato di elencarli in base alla loro qualità, prezzo, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Tempo di Saldi Kit. Hai assolutamente intenzione di equipaggiare la tua auto con il miglior sensore del parcheggio, tuttavia acquisirli in un rivenditore eccessivamente costoso? Stai cercando sensori di buona qualità, al prezzo più conveniente possibile? In tal caso, gli strumenti offerti da Tempo di Saldi, il cui nome è una garanzia, sono sicuramente ciò che stai cercando. In effetti, questi sensori di parcheggio per veicoli rappresentano la scelta finanziaria più efficace sul mercato. Il kit, composto da quattro rilevatori, un sistema di controllo e un monitor per vedere le informazioni raccolte, non è cordless, ma ha una configurazione estremamente semplice. Al numero 4, abbiamo CMO on Sensori D. Hai urgente bisogno del miglior sensore del parcheggio per invertire il tuo veicolo, ma sei scettico riguardo alla scelta data l'enorme varietà di marchi? Stai cercando di trovare un prodotto con innumerevoli recensioni e punti panoramici, per assicurarti di acquistare unità di rilevamento del parcheggio automatico di fiducia? In tal caso, i sensori CMO on, i popolarissimi online nel 2020, sono senza dubbio ciò che stai cercando. Utilizzando ultrasuoni, che funzionano a una frequenza di 40kHz, il kit, composto da quattro rilevatori, è in grado di scoprire ostacoli fino a un raggio di 200 cm per te. Al terzo posto, abbiamo la AUCUR Sensori Di Parcheggio. Hai intenzione di ottenere sensori di parcheggio che abbiano la capacità di fornirti la completezza più completa? Stai cercando qualcosa che superi il sensore semplice? In questo caso, le unità di rilevamento del parcheggio anteriore e posteriore AUCUR sono il prodotto migliore per le tue esigenze, grazie mille grazie alle diverse funzionalità che ti forniranno. Il set, contenente otto rilevatori, ti aiuterà a identificare le barriere utilizzando la tecnologia di rilevamento ad ultrasuoni, che sicuramente segnalerà barriere fino a 230 cm di distanza. La configurazione, seppur semplice, includerà la realizzazione di aperture all'interno della carrozzeria della tua auto, all'interno della quale dovrai occuparti dei televisori via cavo, non rilevabili dall'esterno, per la trasmissione dei dati. Al numero 2, abbiamo il car rover parcheggio. Avete inoltre intenzione di avere la sicurezza di un'unità di rilevamento del parcheggio, di alta qualità, ma non investirete una quantità gonfiata? Stai cercando di trovare un sensore in grado di incorporare prestazioni esperte con un tasso economico? Bene, il rilevatore di parcheggio per autoveicle vagabond è quello che fa per te, essendo il prodotto più efficace per un buon rapporto qualità-prezzo. Il pacchetto è composto da quattro sensori di parcheggio, un sistema di controllo e anche un cicalino, che tra loro produrrà sicuramente il miglior sistema di assistenza al parcheggio per te. Anche se non cordless, l'installazione del set è molto semplice e istintiva. Basta rimuovere la parte posteriore e anche i paraurti anteriori e perforare i fori in corrispondenza di quelli indicati dal produttore. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Proxel Sensori. Hai una nuova fantastica auto, tuttavia esiti a rovinare il corpo con un'attrezzatura inversa negativa. Non hai familiarità con le manovre e sei stanco di danneggiare la tua auto quando ottieni un po' anche distratto? In questo caso, un'unità di rilevamento del parcheggio è ciò di cui hai bisogno e anche, se dovessi suggerirne una e una sola, sicuramente il nostro suggerimento ricaderebbe sicuramente sul marchio Proxel. Sono, infatti, i sensori di parcheggio più efficaci. Dalla distanza massima di rilevamento di 80 centimetri, è possibile utilizzarla senza problemi sia ai paraurti posteriore che a quello anteriore. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale.